Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Aiutano anche le persone anziane a fare la spesa e a riportarla a casa. Sono le sentinelle di quartiere già attive dal 7 novembre nella postazione del centro polivalente Britti di via Rio Sparto nel quartiere San Donato a Pescara, che presto, nell'ambito del servizio di pubblica utilità del comune adriatico, saranno potenziate. Per ora 8 percettori del reddito di cittadinanza che svolgono una funzione di vigilanza e sono state accettate e riconosciute dal quartiere. Con turni da lunedì al venerdì mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 19. Innanzitutto diciamo che è il nostro servizio di pubblica utilità che noi svolgiamo da un mesetto all'interno della città di Pescara che sono i percettori di reddito di cittadinanza. È un servizio molto importante, come dice la stessa parola, sentinelle di quartiere. È un po' l'occhio vigile dell'amministrazione all'interno del quartiere e provvedono a fare tante attività. Ha tante attività che possono essere dalle attività di manutenzione, piccole attività di manutenzione, di pulizia, di supporto, anche attività di aiuto. Ricordavamo l'esempio delle vecchiette che vanno a fare la spesa, magari hanno bisogno di qualcuno che gli aiuta a riportare la spesa perché sole fino a casa. Adesso San Donato o poi ci saranno? Adesso partiamo da San Donato e quindi già sono otto e svolgono attività all'interno di tutto il quartiere di San Donato. Dicevo prima ai tuoi colleghi che è un'attività così tanto richiesta anche dagli altri quartieri che li vorremmo e li stiamo anche estendendo anche in altre zone, perché è veramente tanta 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 la richiesta che ci viene fatta. È un'idea che abbiamo avuto qui a Pescara, che abbiamo trasformato in atti amministrativi e che sta avendo tante adesioni, nel senso che anche io ho ringraziato pubblicamente anche questi cittadini che svolgono questo servizio, che è importante anche proprio per il ruolo che svolgono.